Lizzano, 8 dicembre, piazza Matteotti, una bellissima iniziativa, Natale in piazza, organizzata da numerosi commercianti della cittadina lizzanese, un'iniziativa che vede innanzitutto l'accensione dell'albero di plastica, e quindi un'iniziativa estremamente ecologica, ma all'atere si vive il Natale attraverso la pettolata, attraverso le castagne, la degustazione di castagne, attraverso i mercatini, insomma un modo davvero per iniziare questa lunga corsa che ci porterà poi al 25, al 26 fino all'anno nuovo. O al biofianco Gaetano Marangi e Mino Di Ponzio, chi meglio di loro possono illustrarci l'iniziativa? Beh, è chiaro che questa è stata un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini, soprattutto per l'uso e il riciclaggio corretto della plastica, ultimamente se ne parla tantissimo e noi abbiamo voluto portare questo evento chiaramente in piazza proprio per sensibilizzare e onde evitare chiaramente l'uso scorretto di buttare la plastica. Noi con la plastica possiamo fare tante cose, non dobbiamo più produrre plastica chiaramente, e davanti a un tavolino, davanti a un caffè è nata quest'idea tra me e Mino. Si è accesa la lampadina. Si è accesa questa lampadina e abbiamo detto vabbè perché non rifarlo di nuovo, perché noi siamo già stati presenti in piazza tre anni fa con lo stesso albero e chiaramente davanti al caffè quella sera nasce di nuovo questa serata. Proprio per questo motivo, affinché tutto questo possa avere comunque una fine e sensibilizzare tantissimo i cittadini su questo problema che è molto dannoso, perché comunque come sappiamo tutti la plastica inquina. Basti vedere per esempio le immagini del mare, vediamo quante specie marine intrappolate, magari soffocate dalla plastica. Gaetano Marangi vuole ringraziare qualcuno in particolare? Sì, chiaramente è doveroso farlo e quindi un ringraziamento particolare va alla Casa dell'Acqua, a Daniela facciamo festa, ma soprattutto ai fratelli abbracciavento che ogni anno fanno la tavola del giorno dopo e questa sera hanno voluto condividere con noi questo evento e lo hanno sposato in toto, da subito, senza se e senza mai chiaramente. E comunque un ringraziamento particolare a tutti i cittadini che ci hanno portato le bottiglie e che hanno comunque contribuito a realizzare questa bellissima serata. E quindi è anche un ringraziamento doveroso e per l'amministrazione comunale che ha consentito questa serata con le autorizzazioni chiaramente. Grazie. Dopo aver sentito Gaetano Marangi, Mino Di Ponzio... Io vorrei aggiungere che Lizzano si dimostra ancora una volta un paese molto collaborativo, infatti l'evento ha coinvolto tantissima gente che hanno raccolto le bottiglie e poi il tutto è stato offerto gratuitamente dai vari commercianti. Quindi le nostre cantine che producono ottimi vino... Storiche, conosciutissime. ...hanno donato il vino, chi ha donato farina, chi ha messo comunque... ha proprio... cioè chi ha dato comunque la propria mano d'opera affinché le pettole venissero fritte, mercatini di Natale e niente, è stata davvero una bellissima serata. Beh, diamo merito a voi commercianti che avete avuto questa sensibilità perché in effetti la tutela dell'ambiente passa innanzitutto dagli operatori commerciali e quando si dice che gli operatori commerciali se ne infischiano della plastica non è vero perché questo albero è la prova provata, la cartina al tornasole della vostra sensibilità. È tutto da Lizzano, Natale in piazza, grazie ai commercianti lizzanesi. Grazie a voi.